Ciao a tutti ragazzi! In così poco tempo, la nuova serie che ho iniziato su Minecraft con ZJumpitech, vabbè Jumpitech, con il babbola, sta ricevendo veramente tanti mi piace, tante visual, quindi mi sento in dover ringraziarvi e questo sappiate solo che mi incentiva, che mi motiva a continuare sempre di più e a proporne altri a breve. Beh detto questo direi di iniziare con l'argomento del giorno perché oggi vi porto un gameplay diverso, come saprete a me piace molto variare perché credo che sia abbastanza onoso vedere sempre gli stessi gameplay, sempre lo stesso gioco, quindi mi piace molto variare. Oggi non vi porto né un code né un qualsiasi altro gioco, oggi vi porto un gioco mai visto su questo canale. Entreremo in un mondo ancora inesplorato, oggi vi porto AVA! E non lo so ragazzi, è più forte di me, non ce la faccio a non sminchiare un mio video, devo per forza interrompere la mia serietà che non posso prolungare per più di due minuti per metterci in mezzo l'idiozia perché per me l'idiozia è veramente una cosa seria. Comunque oggi non voglio parlarvi né di idiozia né di quel pirla di canimero che essendo piccolo e nero non se lo caga nessuno di striscio, magari ci dedicherò un commentario a parte, chi lo sa. Oggi volevo parlarvi di questo fighissimo FPS da poco, o non credo da poco, non so da quanto, free to play su Steam quindi scaricatelo. Oggi appunto voglio convincervi a scaricarvi e voglio darvi qualche buona motivazione per farlo. Beh per fare questo credo che non ci sia altro modo, altro modo se non parlavi del comparto tecnico di questo gioco. Beh io non sono assolutamente solito parlarvi di cose tecniche anche perché non sono realmente capace. Però diciamo che quattro cose messe in croce riesco a dirle anch'io su questo gioco. Beh le cose diciamo più ovvie. La grafica di questo gioco è abbastanza semplice, non è super pompata, non c'è nessun frostbite 1.0, non abbiamo nessuna grafica simile a quella di COD per fortuna. Ma è una grafica un po' sul fancy, un po' sullo stile di Team Fortress o sullo stile di un giochino molto molto figo che era uscito qualche mese fa su Facebook che si chiama Uber Strike. Ebbene quel giochino era veramente una gran figata perché come questo gioco aveva una grafica molto semplice, molto fancy come ho detto prima, una grafica simpatica, fresca e non troppo macchinosa, non troppo pompata come quella dei moderni FPS. Beh questo gioco pesa veramente poco, 6 giga, è veramente niente ragazzi. La grafica molto semplice permette anche di avere in questi sempre 6 giga, quindi pochissimo, un casino di mappe, veramente ci sono un bordello di mappe. Ma queste mappe, a differenza di come potrebbe farvi pensare, non sono confusionari come quelle per esempio di Team Fortress. Perché, ok, Team Fortress è una figata, però realmente quando voi entrate in gioco in Team Fortress la prima cosa che vi viene da dire è... E ora che cazzo faccio? Chi mi aiuta? Cioè se non siete con un amico in squadra veramente all'inizio è davvero frustrante. Beh con questo gioco diciamo che solamente i primi 5 minuti voi entrate in gioco e non capite un cazzo. Anche perché essendo il gioco tutto in inglese, se proprio non avete nemmeno mezza base in inglese, beh, siete abbastanza fottuti. Ma detto questo, le mappe sono abbastanza facili da capire, abbastanza intuitive per fortuna. E quindi diciamo che aiutano un po' tutti i tipi di videogiocatori. Anche quelli un po' più babbi come me. Nel complesso il gioco diciamo che mantiene un po' in tutti i suoi aspetti questo stile un po' ironico, un po' cartoon, un po' grezzo. L'ho scelto secondo me di proposito grezzo perché quello che tendono a fare oggi la maggior parte delle case produttrici, anche di FPS, soprattutto di FPS, è quello di imitare i più famosi COD e Battlefield, beh, secondo me questa è una cosa veramente irritante, irritevole e irritosa. Veramente non la sopporto, ma perché cazzo devi copiare per forza Battlefield o COD? Non puoi fare un gioco di sana pianta, cioè è davvero tanto difficile? Beh, sicuramente no, infatti secondo me i produttori di AVA l'hanno capito abbastanza bene. Infatti hanno, ok, hanno tenuto il loro stile, la loro grafica e spero che non si potta questo gioco perché come Uber Strike, che era questo fighissimo giochino su Facebook, quindi che per essere su un social network veramente io ci giocavo veramente tante ore al giorno con quell'altro babbo di Jumpy Tech, appena diciamo si sono accorti di questo successo plateale che stava avendo Uber Strike, cosa hanno fatto? Beh, l'hanno fottuto come succede alla maggior parte dei giochi, come? Copiando la grafica dei giochi più pompati. Ma perché cazzo l'avete fatto? Cioè, non poteva restare semplicemente un gioco figo, un gioco con la grafica cartoon dove è scritto che la grafica cartoon sia meno meritevole di una grafica realistica? Beh, veramente questo io non riesco a capirlo. Questo gioco inoltre è basato sui server e purtroppo a differenza l'unica pecca che riesco a riscontrare in questo gioco è proprio questa. Non è tanto facile trovare la partita, soprattutto se come ho detto prima non ve la cadicciate un pochino con l'inglese, diciamo che all'inizio avete delle difficoltà, perché mentre per esempio in Team Fortress pur basandosi sui server avete comunque la possibilità di fare trova partita e di cercare la vostra partita, qua si basa solamente sui server. Però, 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 devo dire che dopo, diciamo, la prima mezz'oretta credo che poi capisci veramente tutte le meccaniche di gioco, come joinare una partita, come creare l'altra classe, eccetera. Beh, un'altra cosa che volevo dirvi è proprio il sistema delle classi, perché in questo gioco come in Team Fortress per esempio abbiamo delle classi, diciamo, prestabilite, ma qua ne abbiamo solamente tre. Abbiamo quella dello sniper, abbiamo quella delle mitraillette, diciamo, rapide, e poi abbiamo quella dei fucili d'assalto, se così possiamo chiamarli. No, li possiamo chiamare così perché sono fucili d'assalto. Ai ai ai, i murri per di colpi. Ehm, bene, in ogni classe voi potrete customizzare la vostra classe, ovviamente, come è giusto che sia. Come? Beh, giocando, nerdando più tempo possibile, voi prenderete sempre, diciamo, nuovi bonus, nuovi bonus, sì, nuove armi, nuove equipaggiamenti, nuovi caschetti per protezione, no? Con i cappellini di Team Fortress che sono solo a scopo estetico. Beh, diciamo che Ava per me è un gioco veramente figo perché è rimasto il gioco, è rimasto quel gioco. Non ha cercato di copiare troppo i giochi più famosi. E spero veramente che questo non succeda perché per ora mi intrippa veramente molto, ma se dovesse cadere di nuovo in questa tentazione, beh, credo che lo abbandonerai subito, lo disinstallerei e brucierei Steam perché seriamente non ne posso più di vedere giochi che devono per forza copiare i loro fratelli maggiori. Quindi ragazzi, fidatevi di me, date una possibilità anche agli FPS, anche ai giochi meno famosi perché seriamente io pure ero un po' restio, però ho cambiato idea. Grazie ancora per tutto il supporto che mi date, che mi state dando e mi contenete a dare, speriamo sia così, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!